Dopo essere stati abituati a diversi giorni consecutivi con tantissime voci, ufficialità, cessioni, acquisti, una di seguito all'altra, fa strano che dalla presentazione ufficiale della squadra in poi il mercato si sia bloccato. Non siamo ancora riusciti a toglierci gran parte degli esuberi che ancora adesso stanno nella rosa e giallorossa e purtroppo di conseguenza non riusciamo a chiudere le ultime entrate, visto che comunque la Roma sta ancora in movimento per prendere un vice Ebram, un difensore centrale e quindi chiudere il mercato. Stavo per dire centrocampista ma secondo me quest'ultimo ruolo non verrà acquistato e quindi rimarremo con il reparto che abbiamo in questo momento. Purtroppo stando agli ultimi aggiornamenti, vi parlo di Belotti perché questo è l'argomento principale del video, sembra che Gallo si stia stancando di aspettare così tanto perché è da diverso tempo che ormai ha trovato un accordo economico con la Roma, vi vi dico le cifre, 2,8 milioni per tre stagioni, a salire in base al raggiungimento di determinati obiettivi personali e non, ma ancora non si riesce a trovare l'ufficialità. Perché? Proprio perché la Roma deve ancora piazzare diversi esuberi, soprattutto nel reparto offensivo. Si cerca infatti di trovare una sistemazione per Shumurodov, Klaivert e se possibile anche Calafiori, Cioric, Felix, Riccardi e Diavara. Non ci metto Darbuo perché purtroppo si è rotto il crociato come tutti sapete, quindi non penso che verrà ceduto anche perché Kitty prende un giocatore che ha rotto per gran parte della stagione. Sono convinto che non riusciremo purtroppo a cedere tutti quanti, ma sicuramente buona parte si cercherà di piazzare magari quelli che hanno ancora un pochino di mercato, tra cui appunto Shumurodov e Klaivert. Per quanto riguarda l'olandese, si dice che si sta trovando un accordo con il Fulham per un prestito con diritto e non più obbligo di riscatto, una modalità che a me sinceramente non piace, perché è già la terza volta che la Roma prova a cedere l'olandese in questo modo, sperando che l'Ipsia o il Nizza di turno decidano di riacquistarlo, ma alla fine è sempre tornato alla base. È anche vero però che quest'anno comunque ci siamo mossi molto, mossi molto, mossi molto, ok, torniamo un pochino sui giusti binari, in entrata, e quindi è difficile concatenare tantissime entrate e tantissime uscite, soprattutto di giocatori che già di per sé sono esuberi, a differenza di Veretù che comunque l'anno scorso con noi ha giocato molto, sebbene non ad altissimi livelli. Per questo motivo non mi piace questa modalità, ma visto che stiamo arrivando al 31 agosto, tanto vale cederlo così, risparmi sul suo stipendio, e magari speri che gli inglesi alla fine decidano di riscattarlo, poi a massimo tornerà alla base, prima o poi il contratto terminerà, e quindi vediamo un po' quale sarà il suo futuro. Per quanto riguarda Schumelrodel invece, la situazione è un pochino diversa, perché stando agli ultimi aggiornamenti, il giocatore avrebbe già accettato la proposta del Bologna, quindi non è un problema di volontà del giocatore, quanto più di mancato accordo tra i due club, perché la Roma, visto l'investimento importante fatto la scorsa stagione di circa 18 milioni, vorrebbe cederlo a titolo definitivo e a non meno di 13-14 milioni. È evidente però che tu non puoi chiedere una cifra di questo tipo dopo la stagione che ha fatto, in cui ha giocato poco, segnato ancora meno, e quindi si è per forza di cose svalutato, non è neanche un giovanissimo 21enne, 22enne, che tu dici può riscattarsi così tanto, va per i 28 anni, quindi comunque il suo livello più o meno resterà questo. Il Bologna sarebbe anche disposto a prenderlo con l'obbligo di riscatto, ma a cifre chiaramente meno importanti, oppure si può risolvere il tutto con un semplice prestito con diritto di riscatto. Il problema però è che la Roma sta incontrando delle difficoltà per quanto riguarda le cessioni a titolo definitivo, perché Carles Perz via col diritto, Klaivert probabilmente via col diritto. L'unico che ha ceduto definitivamente era avere tu, ma è chiaro che lui chiaramente tecnicamente vale di più rispetto agli altri, quindi ci sta che ci sei riuscito. Per quanto riguarda questi ultimi giocatori però, è difficile trovare una squadra che se li accolli, anzi senza virgolette, a titolo definitivo, perché sono giocatori che devi recuperare fisicamente, tecnicamente e mentalmente, sotto tutti gli aspetti fondamentalmente. Su Morovo un po' meno magari rispetto a Diawara, a Cioric, eccetera, eccetera. Però è chiaro che se si parla di 13-14 milioni per una squadra come il Bologna, è normale che ci debbano pensare, debbano capire per quale giocatore spendere una cifra di questo tipo, perché poi non è che gli rientrano in maniera scontata a breve, perché quest'anno gli è andata bene, che si sono ipervalutati, i chiteate e compagnia bella, ma non ti può andare sempre bene sotto questo punto di vista. Quindi io capisco la volontà di tutti, ma ammetto che mi dà un po' fastidio che si stia facendo aspettare così tanto per il vice Ebram, soprattutto si sta facendo aspettare tanto Belotti, perché lui, come Voenaldum, come Di Bale, come tanti altri, era ed è tuttora un'occasione d'oro. Io so che parlo senza sapere bene i problemi economici della Roma o la situazione economica dei giallorossi, e capisco bene che loro avrebbero voluto chiudere definitivamente per qualche subero per usare quei soldi e quindi ufficializzare Belotti. Se tu mandivi a tutti in prestito con diritto di riscatto, è chiaro che si apre la possibilità che la prossima stagione torneranno tutti e quindi hai Belotti e il suo stipendio. Più Schomurodov, più Klaivert, più Carles Perez, eccetera eccetera. Io sono convinto che se la Roma fosse riuscita a piazzare uno di questi tre a titolo definitivo, Belotti sarebbe subito arrivato, ma se tutti quanti si trattano per un possibile diritto che ti obbliga a pensare che possano tornare, è difficile anche pensare di ufficializzare acquisti come questo. Però io l'ho detto da tanto tempo, occasioni di questo tipo non ti ricapitano. Un giocatore come Belotti, che conosce il campionato, che ha segnato più di 100 gol in Serie A, che nel Torino ha dimostrato qualità tecniche, ma soprattutto da leader non indifferenti, come dice Ebram, sarebbe oro colato. E questo è un ruolo che non dobbiamo sottovalutare, perché è vero che finora abbiamo pensato un po' a tutto il resto, al centrocampo, ai trequartisti dietro la punta, alla difesa, ci stiamo ancora pensando, alla porta, quindi non sto dicendo che la Roma non si sta muovendo e che l'eventuale mancato arrivo di Belotti rovinerebbe tutto, questo no. Ma abbiamo visto l'anno scorso come Ebram abbia faticato a resistere per tutta la stagione, ed è una cosa normale, qualsiasi giocatore, se non ha una vera e propria alternativa, ad un certo punto arriva spompato e le prestazioni che farà alla fine non saranno a livello di quelli iniziali. Per questo motivo serve farlo rifiatare e avere un giocatore che non ti faccia sentire troppo la mancanza. Io voglio bene a Shomurodov, per l'amor di Dio, ma non lo considero un attaccante di riserva a livello di Ebram o comunque che non faccia sentire la mancanza. L'anno scorso l'abbiamo visto, si è impegnato, ma tecnicamente ha fatto veramente poco, c'è sì qualche gol nei minuti, cioè se tu guardi la media a minuti gol, non è malaccio, ma non è un vero e proprio centravanti, non è uno che ti fa salire la squadra, non è uno che è rapace in area di rigore, non lo vedo con queste qualità, e tu quest'anno giocherai un sacco di partite. Io non posso pensare che Ebram avrà solo Felix come alternativa lì davanti, perché Felix magari puoi anche tenerlo come terzo, ma proprio per metterlo alla fine di qualche partita che ormai è finita e sei a posto, ma come prima alternativa veramente stendiamo un velo pietoso, cioè tecnicamente l'abbiamo visto anche con lo Shakhtar, si è incartato con la palla, semplicemente andando avanti verso l'area di rigore, quindi mi auguro che la Roma abbia un piano B. Io adesso non so se fare un video a riguardo, però ho letto che al Marsiglia, davanti sono in uscita Under e Milik, visto che sono arrivati diversi giocatori lì davanti, hanno bisogno un po' di sfoltire. Chiaramente Under non lo prendo in considerazione, perché comunque è un giocatore a tutta fascia, se giochi con i due trequartisti sarebbe molto sprecato e poi li sei copertissimo. Però Milik, alle giuste condizioni, io non ci sputerei sopra, c'è l'interesse della Juve in questo momento, ma secondo me, se tu ti impegni per fare un prestito con diritto, anche nel suo caso, magari sei a posto per questa stagione, poi se riesci a liberarti degli esuberi, lo puoi provare a riscattare a titolo definitivo, te lo tieni in squadra, c'è uno come Milik, sarebbe tanta roba. Poi certo, qua bisognerebbe capire la sua volontà nel venire a essere il panchinaro di Ebram, per quanto riguarda Belotti, sapevamo che lui era disponibile a questa possibilità, per Milik è diverso, poi Milik comunque ha il cartellino, ha uno stipendio forse un po' più alto, quindi è un affare molto più complicato, per questo io sarei contento, ma mi auguro che ancora Belotti si possa fare, purtroppo ho visto un ultimo post di Daiale, e voi potrete dirmi che non vi fidate degli youtuber o queste cose, ma lui comunque mi sembra molto informato riguardo il mercato della Roma, e ha detto che rischia di saltare questa trattativa. Io mi auguro che la Roma non faccia questo errore, perché sicuramente il mercato rimarrebbe positivo, ma non possiamo lasciare scoperto il reparto offensivo a livello di centravanti, perché dietro siamo anche coperti, c'è Di Bala, Zagnolo, Pellegrini, El Sharawi, può spostare qualcuno, cioè lì magari giri un pochino le possibilità, anche Wijnaldum volendo può giocare lì dietro la punta, ma la punta effettiva è solo Ebram in questo momento, io col bene che voglia Felix, ma è solo Ebram, quindi non facciamo l'errore di arrivare al 31 agosto con un solo attaccante lì davanti, perché tutti quanti hanno una riserva che li fa rifiatare, e Belotti per noi sarebbe tanta tanta roba, soprattutto se il Napoli dovesse ufficializzare uno come Simeone, che l'anno scorso ha fatto un sacco di gol, per 3 milioni, con diritto di riscatto a 14, 13-14, cioè io queste cifre me lo sarei preso tutta la vita, quindi se loro possono fare questo, è vero che c'è anche un discorso Champions di mezzo, ma tu devi smuoverti per Belotti, perché lui giustamente non ti aspetterà in eterno, e se sceglierà un'altra squadra, si parla di Turchia, Inghilterra, quello che è, fa benissimo, cioè io mi dispiace dirlo, ma farebbe benissimo, anzi è troppo quello che sta aspettando, quindi vediamo un po' quello che succederà, io sono ancora moderatamente ottimista, ma la Roma deve sbrigarsi, perché indipendentemente dalle cessioni, Belotti è un'occasione che non puoi perdere, quindi io sinceramente, da ignorante, lo prenderei subito, poi magari Schomburg, dove Clivert li cedi con diritto di riscatto, uno di loro verrà riscattato, porca miseria, cioè io non penso che tutti quanti resteranno alla Roma in eterno, poi oltre a questo, magari se tu con l'arrivo di Belotti, raggiungi l'obiettivo Champions, hai anche più introiti, e riesce a gestire meglio il lato economico, so che la Roma si è autoimposta di non superare un determinato limite a livello di stipendi, però c'è anche da capire che tecnicamente serve un surplus lì davanti, a livello di tre quarti, chiaramente non mi lamento, ma come punta, se non ci fosse Ebram per squalifico o qualsiasi altro motivo, chi ci mettiamo? Felix? Shomurodov? ci sarebbe un passo troppo diverso tra il titolare e la riserva, spero che si sia credito il mio discorso, detto questo vi invito a lasciare un mi piace per supportarmi, un'iscrizione al canale se ancora non l'avete fatto, mi raccomando, attivate anche la campanella, così riceverete le notifiche di tutti i miei prossimi caricamenti, se poi volete seguirmi su tutti gli altri miei profili social, vi lascio il link in descrizione, come sempre sono attivo su tutti, almeno con un post al giorno, quindi mi raccomando, seguitemi che mi fa piacere, e chiaramente nei commenti, oltre a dirmi cosa ne pensate del mio video, ditemi secondo voi cosa dovrebbe fare la Roma, se ufficializzare Belotti, se dare una seconda chance a Shomurodov, se cercare altri attaccanti, e semmai ditemi quali vorreste, un saluto a tutti, e sempre Forza Roma, ciao ragazzi!